Dentro un pallone interessante per De Sena, il gol è buono, diciottesimo minuto, il Cagliari perviene immediatamente al pareggio con Daniele De Sena, Cagliari 1, Pordenone 1. De Sena va ad abbracciare i compagni di squadra in panchina, rimette le cose a posto la squadra di Diego Lopez, posizione perfettamente regolare quella di De Sena, ottima l'intuizione di Farias che trova l'inserimento del capitano rosso-blu.